Donadoni, questo importante riconoscimento del premio Prisco è un riconoscimento per lei e anche per il Parma. Per tutto quello che è successo quest'anno a Parma, un esempio positivo in un calcio che di esempi positivi in questi ultimi tempi ne ha dati pochi? Sì, ma non è il calcio, è la nostra società che ne dà pochi, quindi noi tutti dobbiamo cercare di fare qualcosa di più. Lei ha parlato prima dal palco sul futuro, ha detto voglio pensare ad arrivare al termine di questa stagione e poi si vedrà. Assolutamente sì, perché sono stanco. Presidente Corsi, un importante riconoscimento oggi a Chieti, il premio Pepino Prisco, riconoscimento a lei e anche al Miracolo Empoli, un esempio positivo nel calcio di oggi? Lo dice lei, penso di sì. Dicono i numeri, i fatti. Sì, però noi abbiamo questa esperienza di Serie A in cui ci sentiamo di passaggio, per cui così pontificarci non ci piace tanto, anche se magari si potrebbe rendere giustizia al lavoro di tante persone che per passione o per professione danno un contributo a questa società dal basso, cioè dal settore giovanile fino alla prima squadra. Chi ha dato un contributo dall'alto, oltre a lei, è Maurizio Sarri, questo allenatore che è richiesto da diverse squadre, comunque è entrato nell'orbita di alcune big del calcio italiano, si parla anche del Milan. Le chiedo se Sarri il prossimo anno resterà a Empoli. Io mi auguro di sì, per lui e per noi, ovvio che di fronte a un'opportunità di società così importante ci dovremo, penso, inchinare, però non ci vorrei pensare. Ora dobbiamo fare un paio di punti per essere salvi, quando saremo salvi matematicamente allora tutti, gli addetti lavori, compreso lui, cominceranno a fare le loro valutazioni. Presidente Corsi, qualora dovesse arrivare una richiesta importante per Sarri, ovviamente non farà problemi? Penso di no, non credo proprio, sicuramente non a Maurizio, noi non siamo abituati a porre, diciamo sì, concetti economici di fronte a certe scelte, è una cosa comunque da condividere eventualmente.